Il termine neorealista viene utilizzato per la prima volta dal montatore Mario Serandrei in occasione di un'intervista alla rivista Cinema nella quale parlava del film che stava girando con Lucchino Visconti, Ossessione, un film che segna una svolta importante nella storia del cinema italiano. Nel 1939 Lucchino Visconti si trovava in Francia perché era aiuto regista di Jean Renoir, uno dei massimi autori del cinema francese dell'epoca, e proprio qui viene a conoscenza del romanzo Il postino suona sempre due volte, del 1934, di James Kane, del quale legge una traduzione dall'inglese al francese. Rimane affascinato da questa lettura e al suo ritorno in Italia, insieme alla redazione della rivista Cinema, decide di farne un lungometraggio. Chiede i diritti per la riduzione cinematografica del romanzo agli americani, ma siamo nel bel mezzo della Seconda Guerra Mondiale, per cui non riesce ad ottenerli e utilizza la storia appunto di Kane un po' come canovaccio per la costruzione del suo film. Pensate che la pellicola di Visconti arriverà in America soltanto nel 1976 e pensate anche che la MGM nel 1945 realizza proprio la trasposizione cinematografica del romanzo Il postino suona sempre due volte, che ebbe un notevole successo grazie anche agli interpreti Lana Turner e John Garfield. Lucchino Visconti gira il film tra l'estate e l'autunno del 1942 sul delta del Po e nelle zone del Ferrarese. Il film esce nella primavera del 1943, in particolare in alcune città del nord Italia, e in un primo momento passa inosservato. Poi viene requisito dalle autorità fasciste anche per alcune pressioni fatte dalla Chiesa, viste le tematiche scabrose di cui il film trattava. L'opera di Visconti tratta del classico triangolo amoroso. Abbiamo il vagabondo Gino Costa che arriva in una trattoria del Basso Po e qui si innamora perdutamente di Giovanna, la moglie del proprietario della trattoria, ed è a questo punto che i due progettano l'omicidio del marito di lei. Fino dall'incipit del film capiamo che è una pellicola particolare, che ha degli elementi di rottura con tutto quello che era il cinema precedente. Infatti, il personaggio interpretato da Massimo Girotti, Gino Costa, viene svelato molto lentamente. Nella scena iniziale vediamo il protagonista arrivare su di un camion scoperto e la macchina da presa lo segue di spalle che entra all'interno di questa trattoria. L'attenzione del protagonista è richiamata da una voce femminile che proviene dalla cucina. Lui si addentra e qui troviamo Clara Calamai a cavalcioni su di una tavola che sta cantando un motivetto. Ed è a questo punto, quando il volto della Calamai viene scoperto dalla macchina da presa, che quest'ultima diventa quasi gli occhi della stessa Calamai che scoprono attraverso un carrello in avanti la figura proprio di Massimo Girotti. E la sua fisicità diviene in un certo senso l'oggetto dell'attenzione della protagonista. Per la prima volta il corpo maschile diventa oggetto di desiderio, se femminile che anche maschile. È molto interessante qui il caso proprio della presenza di Clara Calamai, che era stato un po' l'oggetto del desiderio di tutto il cinema di regime, del cinema fascista. Si ricorda questa attrice molto per il suo primo seno nudo della storia del cinema italiano. E se l'incipit è innovativo, lo è anche l'ambientazione. Il film non è ambientato in città, ma è ambientato nella provincia, nella campagna. Viene fatto vedere quello che è il degrado di alcune zone d'Italia, attraverso le trattorie, le case maltenute. E si va a sfatare quello che era un mito del regime fascista, che era il mito della campagna. Ci sono molti film degli anni 30 e 40 dove la campagna viene vista come un luogo mitico, dove tutto è bello, dove tutto è possibile, dove tutto è positivo. Invece Lucchino Visconti porta gli spettatori in un luogo di provincia e di campagna che non ha nulla a che fare con gli ideali del fascismo. E il film viene visto molto male dalle istituzioni dell'epoca perché va a rappresentare sullo schermo delle cose che al cinema fino ad allora erano proibite. Veniva rappresentata la voglia di libertà, la voglia di fuga di due amanti, perché veniva rappresentato sullo schermo un rapporto adultero tra due persone. Veniva rappresentato anche quello che era l'omicidio. Pensate che fino ad allora tutte le situazioni scabrose, sia del cinema di commedia, sia del cinema poliziesco o thriller dell'epoca fascista, tutte quante le azioni venivano trasportate all'estero o in Ungheria, dove c'era appunto la famosa commedia all'ungherese, la commedia di telefoni bianchi, oppure negli Stati Uniti, perché certe cose come l'adulterio, l'omicidio, i furti eccetera non potevano essere rappresentati sul territorio italiano. Dal punto di vista narrativo poi il regista fa delle bellissime ellissi, cioè certe parti del racconto che potevano essere comunque scabrose, come esempio la scena dell'omicidio, non vengono fatte vedere allo spettatore. Vengono fatte vedere invece delle scene abbastanza, chiamiamole così, forti per l'epoca, come ad esempio gli atteggiamenti amorosi tra i due protagonisti che vengono ritratti più volte a letto assieme. E poi viene rappresentate quelle che sono proprio le pulsioni amorose tra i due amanti e le pulsioni anche omosessuali, cioè per la prima volta Lucchino Visconti introduce al cinema in maniera non velata un personaggio omosessuale. Sto parlando dello spagnolo, il personaggio interpretato da Elio Marcuzzo che in un primo momento doveva essere un semplice sovversivo comunista amico dei proletari e poi piano piano il suo ruolo viene modificato proprio in questo ragazzo che è affascinato dal protagonista Gino interpretato da Massimo Girotti. Emblematica è la sequenza in cui i due sono costretti a dormire assieme sullo stesso letto e quando il personaggio di Girotti si è addormentato Marcuzzi accendendo appunto una sigaretta guarda con la luce dell'accendino il corpo appunto di Massimo Girotti. Questa scena tra l'altro all'epoca fu tagliata e ripristinata soltanto nelle edizioni moderne, anche perché il film come vi dicevo fu ritirato dalla circolazione nel 1943 e Lucchino Visconti riuscì a salvarne soltanto una coppia che è la coppia giunta fino ai giorni nostri. Elio Marcuzzo si era specializzato soprattutto in ruoli secondari, aveva esordito al fianco di Alberto Sordi in una piccolissima parte nel feroce Saladino del 1937 diretto da Mario Bonnard e interpreta fino al 1945 una quindicina di film in ruoli minori e lo spagnolo forse è la sua interpretazione migliore. È ricordato soprattutto per la sua tragica e fine avvenuta nel luglio nel 1945 dove fu accusato di collaborazionismo in quanto aveva tradotto per un impiegato del comune di Treviso dei testi dall'inglese e dal tedesco in italiano. Si trattava purtroppo di un grandissimo equivoco, infatti l'attore non teneva affatto appunto al fascismo e fu giustiziato insieme al fratello proprio dai partigiani. Il ruolo della protagonista Giovanna doveva essere interpretato da Anna Magnani che però durante le riprese del film aspettava un bambino e per cui il ruolo passò a Clara Calamai che con questo film riesce diciamo così a liberarsi dagli orpelli, dei pregiudizi della commedia dei telefoni bianchi e del cinema in costume che aveva avuto appunto durante gli anni 30 e gli anni 40. E c'è un bellissimo scambio sempre tra Clara Calamai e Anna Magnani perché Roma città aperta doveva proprio essere interpretato dalla stessa Calamai che poi cederà invece il ruolo ad Anna Magnani. Ossessione di Lucchino Visconti segna una svolta epocale nel panorama appunto del cinema italiano dell'epoca perché dopo questo film il cinema non sarà più lo stesso e si aprirà quella che sarà la gloriosa strada del neorealismo cinematografico italiano. Grazie a tutti.